Salite sulla slitta! Fortunatamente conosco tutti i vostri indirizzi! Che succederà adesso? Ci risveglieremo tutti, giusto? Può darsi, lo spero tanto! Ci risveglieremo o... Concentrati solo su questo! Tu ci credi in Babbo Natale? Ho sempre creduto in Babbo Natale. Ma lui ha un aspetto diverso per me. Guarda! Ehi! Vuoi prendere le redini, dottore? Sei una costruzione onirica che attualmente rappresenta la salvezza o la morte della mia mente. Ok, ma... Vuoi provarci o no? Ma sì, va bene! Scusate! 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 Guardatevi! 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 Sto guidando una slitta! Sto guidando una slitta! Piano! Dalle a me ora! Eccole!